Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati per una nuova edizione del telegiornale. Iniziamo stavolta con i titoli delle principali notizie di mattina. La decisione della regione sugli accorpamenti degli istituti per il prossimo anno scolastico sarà rinviata dopo Natale. Il destino dell'Istituto Agrario Anzillotti di Pescia quindi resta ancora in bilico per un po'. Pistoia è una nuova area verde, si tratta dello spazio alle spalle dell'Istituto Fermi dove sono state messe a dimora circa 100 piante. L'iniziativa nata nell'ambito del progetto nazionale Life Terra è firmata da Lega Ambiente. Turno frasettimanale, l'ultimo dell'anno per la serie di domani. Scenderanno in campo la Pistoiese, almeno si spera, contro il Lentigione allo stadio Melani. L'Aglianese andrà invece a far visita al Forlì, calcio d'inizio alle 14.30. La decisione della Regione Toscana sugli accorpamenti degli istituti per il prossimo anno scolastico sarà rinviata dopo Natale. La Giunta regionale riunita ieri non ha infatti deliberato quello che invece sembrava essere un'urgenza, in virtù anche dei tempi estremamente stretti rispetto alla scadenza del 31 dicembre. La materia non era stata neppure inserita nell'ordine del giorno. Il destino dell'Istituto Agrario Anzillotti di Pescia resta dunque ancora in bilico. Come è noto, la provincia di Pistoia, chiamata a pronunciarsi sulla fusione della scuola pesciatina, aveva presentato una mozione per mano di Lisa Amidei, che ha le deleghe appunto alla scuola, impegnando la Regione a valutare l'accorpamento dell'anzillotti con l'Istituto Alberghiero Martini di Montecatini, in soluzione questa gradita le due scuole e i sindacati. C'è però il nodo da sciogliere sul numero di studenti che andrebbero a costituire il nuovo complesso scolastico, oltre 1.700 che supererebbe il limite imposto dalla Regione fissato a 1.600. Ogni decisione slitta dunque alla nuova seduta della Giunta regionale, che sarà in programma molto probabilmente il 28 di dicembre. Pistoia ha una nuova area verde, vediamo. 100 nuove piante per Pistoia. L'area è quella alle spalle dell'Istituto Geometri, dove ha preso corpo il progetto Life Terra, iniziativa internazionale che mira a piantare 500 milioni di nuove piante in tutta Europa e che ha visto il coinvolgimento anche della cantante Elisa. L'iniziativa è stata di Lega Ambiente, che con il contributo della provincia, proprietaria dell'area della Fondazione Caripit e di vari sponsor di Feageroliva, Coe e Vannucci Piante, con quest'ultima che ha donato gli alberi, ha dato vita alla nuova area verde. Uno spazio che ha sottolineato Antonio Sensa, presidente di Lega Ambiente, è un dono alla città di Pistoia. Non è ancora finito perché abbiamo intenzione anche di costruire un'aula didattica all'interno di questo parchetto e comunque chiediamo agli studenti di poter collaborare con noi facendo tipo le sentinelle dell'ambiente e di consentire e far sì che questi alberi continuino a vivere. Ci auguriamo che questo progetto possa veramente andare avanti. L'inizio l'ha dato Lega Ambiente, noi abbiamo donato volentieri queste prime alberature, c'è stato un primo lotto simbolico prima dell'estate e poi successivamente negli scorsi giorni. Questo dovrebbe diventare un parco cittadino, usufruibile a tanti scopi. Un progetto che come ha sottolineato poi la vicepresidenta della Fondazione Icaripit, Cristina Pantera, contribuisce all'evoluzione di questa parte della città. Mi piace ricordare che è qui vicino all'importante progetto della piscina palestra del Fermi al quale noi abbiamo contribuito totalmente per la realizzazione del progetto esecutivo che è costato una cifra importante, 900 mila Euro. Ma riteniamo che sia importante per la città poter contribuire al risanamento, alla ristrutturazione, a offrire alla comunità queste parti della città, sia per quanto riguarda l'ambiente, sia per quanto riguarda lo sport. L'abbiamo già sentito annunciato in questo servizio, a settembre sarà aperta la nuova piscina delle Fedi Fermi e a breve partiranno i lavori per il rifacimento dell'Istituto Geometri. Se non ci saranno problematiche nella gestione del cantiere, che a volte si manifestano per ragioni impreviste e imprevedibili, è prevista la riapertura dell'impianto, quindi la riconsegna alla città, a partire dall'inizio dell'anno scolastico prossimo. È l'annuncio del Presidente della provincia di Pistoia, Lugamarmo, che in occasione dell'inaugurazione di una nuova area verde alle spalle dell'Istituto dei Geometri, ha fatto il punto sul progetto per la nuova piscina palestra a Fedi Fermi. Quindi ci auspichiamo che a partire dall'Aura Tunno questo importante valore per la città possa essere rimesso a disposizione della comunità pistoiese esprimendo tutto il potenziale che in realtà può mettere in campo. Per l'impianto sportivo, che sarà a disposizione delle scuole, il costo complessivo è di circa 8 milioni e mezzo di euro. A subire un cambiamento sarà approssimamente tutta l'area, oltre alla piscina palestra e al giardino. Infatti, grazie a fondi PNRR, sarà effettuata la copertura del campo da calcio della scuola. E a breve partiranno lavori anche su questa struttura che è qui alle mie spalle. In assoluto l'intervento più oneroso fra quelli finanziati nell'ambito del PNRR, 11 milioni di euro per il rifacimento completo della struttura dei Geometri che è qui. Aldo Buti, costumista di Bolognini e Zeffirelli, era a Pistoia per la presentazione del suo video. Nella sala soci di Coppe Pistoia, il centro Bolognini ha presentato un'anteprima al videoteatro come disegno. Conversazione con Aldo Buti. Nell'intervista il noto costumista, collaboratore di Bolognini, Zeffirelli, Branciaroli, Benigni e molti altri protagonisti dello spettacolo, ripercorre alcune tappe della propria carriera. L'iniziativa è composta da due appuntamenti. La presentazione degli atti del convegno su Bolognini che si è tenuto in occasione del centenario, ma passa in qualche modo in secondo ordine perché è l'occasione per presentare in anteprima un video che è stato realizzato dal centro Bolognini che raccoglie non tutta, ma una parte significativa della carriera professionale di Aldo Buti. Non ho mai pensato alla carriera, ho solo pensato a fare delle cose che mi piacessero. Proprio la carriera è stata l'ultima a essere immaginata. Quindi quello che ho fatto è venuto da sé, si può dire. Ho fatto degli incontri importanti, ma anche quello è un fatto casuale. Quali sono le cose che più l'hanno gratificata nel suo percorso lavorativo? Allora, avendo lavorato per vent'anni con Bolognini, la prima cosa che ho fatto è stata già una cosa importante perché ho fatto un'Aida prodotta dalla Fenice di Venezia nel 1978 che ancora va in giro per i teatri italiani e europei. Tant'è vero che due anni fa è stata herpista a San Carlo di Napoli. È una bella durata per uno spettacolo d'opera. E poi la Certosa di Parma con Bolognini. Molte cose sono legate a Bolognini. È stato per me un grande incontro. Piccolo trasferimento. Andiamo a Firenze per il presepe della Banca di Cambiano. Ormai è una tradizione. La Banca di Cambiano di Firenze ha presentato lo storico presepe in legno nella sede di Villa Fagan, realizzato dagli artisti del gruppo Donatello. Ogni anno all'opera si aggiungono personaggi vari. Da Don Milani a Giorgio Lapira, ma anche Gino Bartali. E quest'anno Papa Bergoglio, sorretto da San Francesco. L'installazione è una tradizione che si rinnova da ormai nove anni, divenendo un centro di attrazione per cittadini e turisti. Abbiamo considerato che del clero locale avevamo Monsignor Viola, poi l'Arcivesco, e il Papa no. Quest'anno lo facciamo il Papa. Però, povero uomo, questa l'ho disegnata io, l'ho realizzata io. Ho pensato, c'è bisogno di un sostegno. E chi meglio del San Francesco? Ne porta il nome, si comporta veramente come lui. E quindi ho fatto questa sagoma doppia. Un Papa sostenuto da San Francesco. Ormai il presepe è diventato per noi naturale che nel periodo natalizio ci sia questa iniziativa. Riguardo alla presenza della banca, la presenza della banca, direi, naturalmente è portata all'apertura, all'espansione. È nella nostra natura. Le banche sono tutte denominate banche, ma non tutte sono uguali, non tutte fanno lo stesso mestiere e soprattutto non tutte fanno il mestiere con la stessa modalità. Noi abbiamo una filosofia semplice, che non è semplicistica, ma è semplice e le cose semplici, secondo me, sono le più importanti. Per noi il cliente non è un numero, il cliente è una persona, la banca cresce se crescono i clienti. Domani, nei prossimi telegiornali, probabilmente anche stasera, faremo vedere un servizio speciale su questo presepe. Domani, ecco, ho anticipato un po' troppo, domani c'è un turno infrasettimionale di calcio di serie D. La Pistoiese affronterà in casa il lentigione allo stadio Marcello Melani. Purtroppo intorno ai colori arancioni ci sono ancora molti punti interrogativi. Le premesse per la prossima sfida della Pistoiese e quella del turno infrasettimanale di serie D di mercoledì, dove gli arancioni ospiteranno al Marcello Melani il lentigione, non sono certo buone. Dopo il pareggio a Corticella, la squadra di Mister Consonni è tornata ad allenarsi domenica per poi saltare l'allenamento di lunedì, causa questione campo turchi. La richiesta di poter utilizzare l'impianto è arrivata tardi al comune, che quindi ne ha negato l'utilizzo. E questo non pende certo a favore della squadra, che dovrà comunque affrontare una gara importante contro la coinquilina in classifica. Entrambe si trovano a 27 punti. Gli ospiti arriveranno all'appuntamento con una sconfitta casalinga alle spalle contro il Leffanfulla. Ma preoccupare di più non sarà la condizione fisica o la preparazione atletica della Pistoiese, quanto le tante assenze che comporteranno ancora e di più scelte obbligate da parte del tecnico arancione. Fermo restando che nessun altro giocatore decida di lasciare Pistoia in queste ultime ore, non ci saranno gli squalificati Caponi, Davì, Costa e Diodato. Rientrerà a Pertica, con Silvestro che probabilmente sarà convocato, ma con l'importante infortunio alle spalle non sappiamo se e quanto possa essere impiegato. Come è successo contro il Lea Corticella saranno aggregati anche alcuni ragazzi della Junioris. Risposte riguardo alla possibile formazione che scenderà in campo è impossibile averne, perché la conferenza stampa di mister Luigi Consonni dopo essere stata annunciata è stata poi annullata, a dimostrazione che l'ambiente non sta vivendo uno dei momenti più felici e sono molte le questioni che lo manifestano. Nonostante la squadra viva in mezzo a tanti dubbi da diverse settimane, in campo non ha mai dato segnale di voler mollare. Le prestazioni sono state ottime, anche in condizioni di piena emergenza. Tutto si può dire, ma non che chi è rimasto a vestire la maglia arancione non abbia messo il massimo del proprio impegno. Forse questo è quello che servirà anche nell'ultima giornata del Gironi di Andata, quella che chiude il 2023, quello spirito di gruppo che continua a reggere anche in quei delicati equilibri. Fischio d'inizio ore 14.30, in uno stadio che non immaginiamo pieno, ma che vedrà presenti i tifosi sempre al seguito degli arancioni e che in questi ultimi giorni hanno dato il via anche ad una contestazione nei confronti della società. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore. Preoccupante le voci che ci sono di altri giocatori in partenza, speriamo di no, perché veramente nel caso sarebbe difficile fra infortunati, chi se ne è già andato, scusate, fra squalificati, chi se ne è già andato e chi vorrebbe lasciare pistoia, sarebbe difficile mettere in campo una squadra se non piena zepp di giovani. Vediamo, sono situazioni che si evolvono ora dopo ora da una decina di giorni a questa parte e non sono purtroppo mai in senso positivo fino a questo momento. L'Aglianese giocherà domani in trasferta, difficile a Forlì. Neroveri sono reduci dal pareggio casalingo con il Certaldo, i biancorossi invece sono in buona forma con le ultime tre partite, tutte e tre vinte, forti tra l'altro anche i romagnoli di un terzo posto in classifica. Le ultime prove della squadra di Cicciobaiano fuori cassa sono state positive, si proverà quindi a fare il colpaccio anche a Forlì per chiudere al meglio l'anno 2023, l'anno solare ovviamente e poi si rivedrà nella prossima stagione, nella prossima anno con il girone di ritorno. Comunque ne parleremo stasera nelle varie spazi sportivi dei vari telegiornali. Vi lascio a Tra le righe un libro a settimana, rubrica a cura di Silvia Cocchini, Valentina Fiorineschi, Simona Priami e Linda Raffanelli. Poi a seguire, Acqua in bocca ma non troppo, rassegna culturale che si svolge alle terme Tettuccio di Montecatini. Alle 17 giallo Pistoia, trasmissione dedicata alla letteratura gialla e noir e poi a seguire Amapola, un programma condotto da Mario Raffanelli che ci porta indietro nel tempo con personaggi, avvenimenti e la musica che hanno fatto la storia di TVL e anche un po' di storia del territorio. Alle 19 torniamo noi con la prossima edizione, la prima della sera del telegiornale. Ci vediamo più tardi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.